Ciao, sono Jill Cooper e un ottimo notizio per te, si dimagrisce più facilmente in estate. Sfrutteremo con questo Summer Bikini Challenge sulla mia palestra online questa tendenza naturale del nostro corpo a dimagrire. Tutti i giorni alle ore 6.30 della mattina troverete un allenamento dal 1 giugno al 31 agosto. Tutti i giorni 15 minuti super intensi a corpo libero. Ci sarà Tabata, Paisy, Calistenico, allenamenti mirati per tutto il corpo per permettere di permetterti di tenerti in forma per tutta l'estate. Il video rimani online, non ti preoccupare. Comincia dalle 6.30 ma tu puoi allenarti quando vuoi durante l'arco della giornata e tutto il mese. Ma non è finito, ci saranno anche i webinar inclusi, i webinar che ti aiuteranno a capire che cos'è digiuna e l'intermettenza, che ti aiuteranno con l'autostima, che ti aiuterà a utilizzare le affermazioni positive, insomma, per partire con un nuovo te già da settembre 2022. In più ci sono i diari, un allenamento mirato di 30 giorni più le regole per la digiuna e l'intermettenza. Oltre all'allenamento challenge avrai anche tutto l'abbonamento base, che include 4 allenamenti al giorno di 10 minuti, 20-30 minuti, 60-90 minuti e trampolino e pedale vibrante se vuoi. Ma non è finito qua, avete anche gli allenamenti singoli, centinaia di allenamenti pronti per essere utilizzati quando vuoi. Porta la palestra con te e da oggi fino a 31 agosto 15 minuti al giorno saranno assicurati. tonificherai gambe, glutei, abdominali, pettorali, le braccia, sistema bruciagrassi, ma non solo, anche la testa perché con i webinar affronteremo anche l'autostima, la disciplina, la costanza e l'autoamore. Vi aspetto sulla mia palestra nel gcooper.com, un po' più di una palestra, proprio una stile di vita. Baci dalla Jill.